Il sindaco di Parma Federico Pizzarotti lascia il Movimento 5 Stelle e l'annuncio in una conferenza stampa in diretta Facebook, una decisione definita abbastanza difficile, che arriva 144 giorni dopo la sua sospensione per l'indagine sul Teatro Reggio di Parma, poi archiviata dalla procura. Sono stato sospeso con una norma ad persona, ma ha detto Pizzarotti, che ha poi aggiunto, non sono io ad essere cambiato, è il Movimento. Kim Kardashian sequestrata e rapinata nella sua camera d'albergo. È successo a Parigi, due uomini a volto coperto e vestiti da poliziotti si sono introdotti nella notte nell'hotel dove la star statunitense alloggia per partecipare alla settimana della moda. Mi spiace, ho un'emergenza familiare. Così il marito Kenny West ha interrotto un suo concerto appena saputa la notizia ed è volato anche lui a Parigi. Secondo la polizia francese, il furto subito dalla Kardashian monterebbe a vari milioni di euro. Sugli sci è la più vincente della storia e da oggi debutta anche come scrittrice. Negli Stati Uniti esce il primo libro di Lindsay Vaughn. Il titolo è Strong is the new beautiful e contiene una serie di consigli sull'alimentazione e la preparazione fisica. L'atleta ha inbacheca 70 successi in Coppa del Mondo, due medaglie olimpiche e cinque mondiali. Per l'occasione la Vaughn ha posato nuda su Instagram commentando così, ci sono voluti 31 anni per sentirmi bene con il mio corpo e con chi sono e non vedo l'ora di condividerlo con voi. Sono passati tre anni dal naufragio in cui a mezzo mio da Lampedusa persero la vita 366 migranti e oggi per la prima volta si celebra la giornata delle memorie in ricordo di tutte le persone morte in mare scappando da guerra e persecuzioni. Per l'occasione è stata organizzata una marcia a Lampedusa alla quale partecipano anche i sopravvissuti alla tragedia del 3 ottobre 2013. Dall'inizio dell'anno ad oggi sono già 131.860 i migranti arrivati in Italia dal Mediterraneo, oltre 3.000 i morti nei primi sette mesi del 2016. Già tempo di neve sulle montagne del Trentino Alto Adige a seguito di una perturbazione notturna che ha portato nella zona pioggia e forte vento e prime nevicate sui rilievi, sul passo dello Stelvio a quota 2.757 metri si sono registrati 5 centimetri di neve fresca ed una temperatura di meno 9 gradi. Sopra i 3.000 metri si registrano i valori più rigidi con meno 10 gradi sulla croda delle cornacchie in Val Senales. A Dobbiaco e Vipiteno non si va oltre i 5 gradi mentre a Bolzano si registrano 12 gradi. Premio Nobel per la medicina 2016 è andato a Yoshinori Oshumi per la scoperta per i meccanismi dell'autofagia, termine che in greco indica come il corpo mangi se stesso. Nel comunicato diffuso dopo l'annuncio si legge come le scoperte dello studioso giapponese possono aiutare a capire come le cellule riciclano il loro contenuto e aprono il percorso alla comprensione di molti fondamentali processi fisiologici, come l'adattamento in caso di fame e la risposta alle infezioni. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!